Buongiorno, sono Maurizio, sono il titolare del Bed & Breakfast, le finestre sul Porto Antico di Genova. Il Bed & Breakfast si trova al quarto piano, tranquilli c'è l'ascensore, di un palazzo vincolato del 1100. Ha due stanze, questa è la stanza Galeone, l'altra è la stanza Bigo, sono praticamente gemelle. Abbiamo messo a mudo il muro originale del 1600. Ognuna delle due stanze ha un suo bagno moderno, ha il riscaldamento e la varia condizionata garantita da una pompa di calore, c'è Wi-Fi gratis in tutta la struttura. Ognuna delle due stanze è il must del Bed & Breakfast. Questa è un'enorme finestra che dà sul Porto Antico, sia la mattina quando uno si sveglia, sia la sera quando c'è un tramonto, è una cosa spettacolare. Al vostro arrivo vi accoglierò con un tocco di Fugassa e un goto di Vingianco per farvi entrare da subito nell'atmosfera di genitore. Al vostro risveglio preparata da me vi aspetterà una ricca colazione dolce con prodotti di negozi di prossimità, del commercio ecosolidale, biologici. Inoltre il Bed & Breakfast è convenzionato con una serie di trattorie tipiche genovesi che vi faranno il 10% di sconto sulla vostra cena e con la società Golfo di Guglio che ha i battelli che vanno a Camogli, Portofino, Cinque Terre, dove avrete uno sconto di 2 euro su ogni migliore. Che dire di più? A questo punto vi aspetto a Genova, al Bed & Breakfast, le finestre sul Porto Antico.